Al sondaggio della tecnica della scuola hanno partecipato 3.233 rispondenti. A non essere d'accordo sull'uso dell'asterisco dello schwa nelle comunicazioni scritte a scuola sono l'87.2% di insegnanti, mentre 8 su 10 sono gli studenti e le studentesse che hanno espresso la preferenza con il no. Lo stesso risultato lo ritroviamo anche nella categoria altro, che comprende i genitori, il personale ATA e non solo. A rispondere al sondaggio sono soprattutto insegnanti, che rappresentano quasi la metà di chi ha risposto. Il 32.8% sono studenti, il 18.8% altri soggetti. L'interesse maggiore all'argomento, naturalmente, arriva da chi studia o lavora o ha un figlio o una figlia nella scuola secondaria di secondo grado, per il 45.6%. Un tema particolarmente sentito nel nord Italia, da cui proviene il 51.6% di risposte, seguito da centro, isole e sud. Grazie a tutti.